Salve, adesso vedrete la materializzazione di un ciondolo d'argento attraverso il canale Exodus. Durante l'esecuzione dell'apporto, lo strumento e i presenti parlano delle modalità con cui dovranno essere selezionati coloro che chiedono di partecipare ad una seduta di questo canale. Le guide fisiche, preposte alla conduzione della fenomenologia fisica, ripetono infatti che il parlare dei presenti giova alla materializzazione. No, ma per quello io mi dicevo, secondo me arrivano anche 30 persone per parlare soltanto e che si fanno conoscere, voi conoscete, per cui sapete al limite giudicare cosa la volta dopo, proporre a Camilla, possiamo portare Marco, Mario, Angela, eccetera, eccetera. Allora, se quelli di sei se ne sono andati perché evidentemente volevano tre, teatrina, non so, insomma, punte. Non so, io non posso giudicare, non lo dirsi, no, ma nessuno vuole giudicare. Questi insomma sono i problemi, e poi sapere veramente un po' quello duro per chi è composto, chi so. Poi, prima di concludere, no, il discorso del calendario che abbiamo stabilito, se è giusto e se è opportuno di seguirlo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.